È un momento comunque particolare, l'affronteremo secondo me con la dovuta serenità, domenica c'è l'Assemblea Nazionale che deciderà appunto i tempi e i modi del Congresso. Comunque io sono contrarissimo a ogni forma di scissione. Diciamo che il Partito Arretino è stato comunque sempre abbastanza unito, lo dimostrano anche l'ultimo congresso, è stato un congresso unitario sia a livello comunale che a livello provinciale. Io penso che non parteci si sta sia quando siamo in maggioranza che quando siamo in minoranza e siccome siamo in democrazia quando la maggioranza prende le decisioni dopo aver discusso con la minoranza poi le porta avanti. Chiaramente la presa del governatore sul nostro territorio è senz'altro maggiore rispetto al resto d'Italia. Poi lo so, la gente valuterà anche le politiche che in questi anni sono state fatte da parte del governatore sia in tema di aree vaste sia in tema di riforma sanitaria.